Festività natalizie, la tradizione dei presepis popola in tutta la regione, usanze e consuetudini legate alla festa della Natività nella gran parte dei paesi molisani. Campobasso aperta la mostra fotografica sui misteri del Dizzinno, la magia dei 13 ingegni in una rassegna articolata con foto su tela per gli scatti del fotografo Roberto De Renzis. Termoli, la Caritas a sostegno dei poveri e degli emarginati, 25 senza tetto o per lo più stranieri hanno potuto consumare il pranzo natalizio presso la mensa dei poveri della città adriatica. Oltre ai consueti ospiti si sono fatti notare alcuni nuovi poveri di nazionalità italiana. Sport, calcio, ultimo giorno stop dopo la pausa natalizia, domani i calciatori riprenderanno gli allenamenti in vista delle prossime gare e nei vari campionati. Buongiorno, ben trovati con l'informazione di Molise TG a Pesche. La manifestazione e i presepi nel presepe è giunta alla diciottesima edizione. In questo servizio i presepi più originali e innovativi mai esposti prima e tante altre opere realizzate da artisti venuti da fuori regione. Vediamo cosa hanno realizzato Arianna Gentile e Rosario Varone. Siamo nel centro storico di Pesche, un comune che tanto somiglia ad un presepe, grazie alle sue bellezze naturali, scorci, vicoli e all'aspetto labirintico di scale e passaggi, caratteristiche che da 13 anni permettono una suggestiva esposizione di opere presepistiche, una cinquantina in tutto che i visitatori e fedeli possono ammirare all'interno delle vecchie abitazioni del borgo. Ecco alcuni presepi realizzati dagli stessi abitanti del piccolo paese alle porte di Isernia e dagli studenti di alcune scuole molisane. Ma non solo, perché anche quest'anno la manifestazione i presepi nel presepe, che dalla sua prima edizione propone un fascinoso viaggio attraverso la tradizione, l'innovazione, la fantasia e la spiritualità, ha ospitato le creazioni realizzate da artisti di fuori regione, dalla Valle d'Aosta alla Calabria, passando per le isole, perché le tradizioni, i mestieri e le bellezze regionali possano entrare a far parte della cultura di tutti. E poi ci sono i presepi realizzati dai ragazzi, come questo per esempio molto originale, con i suoi personaggi immersi in un acquario, e ancora il presepe più motto, fatto dai bambini di soli 4 anni, della scuola dell'infanzia Agazzi di Campomarino. Oppure questo, realizzato dalla Comunità Educativa per Adolescenti San Michele di Sant'Angelo in Grotte, spazio anche ai presepi con materiali innovativi, lungo il percorso è possibile infatti trovare un presepe interamente realizzato con la sabbia marina, o con il polistirolo, capelli, ferretti, lacca e gel. Ma l'evento, i presepi nel presepe è molto altro ancora, è previsto infatti un concorso letterario, il presepe vivo, il mercatino di Natale e la rassegna pesca in mostra, il borgo accoglie l'arte. Sono numerosi e diversi, insomma, gli eventi espositivi organizzati lungo il percorso presepistico e che vale la pena di visitare, c'è tempo fino al 6 gennaio. Anche quest'anno si rinnova la tradizione dei presepi viventi, tante saranno le rappresentazioni anche in Molise. Nella giornata di oggi sarà possibile apprezzare quest'arte tutta italiana nei comuni di Colletorto, Larino, Montenero di Bisaccia, San Felice del Molise e San Polo Matese, mentre a Petrella Tifernina è prevista la manifestazione quadri viventi all'interno della chiesa di San Giorgio Martire. I 13 misteri di Paolo Saverio di Zino in altrettanti scatti del fotografo Roberto De Renzis. Nella mostra, che rimarrà aperta fino al 6 gennaio al Museo dei Misteri di Campobasso, è possibile apprezzare le foto su tela che caratterizzano il calendario 2013 dell'Associazione Misteri e Tradizioni. Vediamo il servizio. Siamo abituati a vederli sfilare per le strade di Campobasso in occasione del Corpus Domini, sui cosiddetti ingegni, quelle particolari e bilanciatissime strutture metalliche che li sostengono. I misteri di Paolo Saverio di Zino in via del tutto eccezionale lasciano propri quadri viventi per approdare su un vero e proprio set fotografico. allestito davanti all'abitazione dello scultore campobassano. Particolarmente suggestivi gli scatti di Roberto De Renzis raccolti nel nuovo calendario dei Misteri 2013, realizzato dall'Associazione Misteri e Tradizioni, senza alcun contributo pubblico, come chiarito dal presidente Liberato Teberino, ma grazie al sostegno economico di sponsor privati. 5.000 le copie numerate realizzate e vendute al prezzo di 3 euro. Uno spaccato di storia e di vita campobassana che adorna i 12 mesi della tredicesima edizione del calendario. In copertina, oltre al volto di un diavolo, emblema della manifestazione in chiusura, la foto dei piccoli figuranti, protagonisti della sfilata. Raffigurato anche il fotografo che ha voluto rendere omaggio a questa tradizione squisitamente campobassana e che ha prestato gratuitamente la sua opera per l'iniziativa. Le tele fotografiche, rigorosamente su fondo nero, sono raccolte in una mostra temporanea al Museo dei Misteri di Campobasso, in cui resteranno esposte fino al 6 gennaio. Una versione decisamente diversa per questa edizione 2013 che ha previsto un vero e proprio set, abbandonando l'abituale sequenza di scatti dedicati, dando spazio non solo alle realizzazioni del dizinno, ma anche al luogo della loro conservazione. 31 i presepi di Giovanni Teberino, presidente dell'Associazione Misteri e Tradizioni, esposti in occasione della festività natalizia al Museo dei Misteri di Campobasso. Materiali di riciclo e naturali, attualità e tradizione, una mostra ricca di suggestione. Vediamo. Una passione nata molti anni fa, quella di Giovanni Teberino per i presepi, 31 dei quali sono raccolti nella mostra allestita al Museo dei Misteri di Campobasso. La passione nasce da piccolo, mi ha trasmesso a mio padre, infatti ogni anno pure a casa il presepe è sempre presente. E poi pian piano l'appetito viene mangiando, quindi le novità e tutte le cose che possono attribuirsi a un presepe fa nascere questa tradizione. Sono molti i materiali utilizzati da Teberino per dar vita alle sue opere, dalle conchiglie di mare al legno, dai pneumatici ai cellulari. Tecnologie e tradizione si fondono in un percorso artistico legato a doppio filo con la storia della cristianità, in un modo del tutto originale. Due riconoscimenti ottenuti da Giovanni Teberino, dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che si è espresso positivamente sulla sua arte presepistica. L'Italia stessa è stata omaggiata di un presepe in occasione del suo 150esimo anniversario. Sì, questo è un presepe che ho realizzato lo scorso anno in occasione dell'anniversario dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Mi è venuto in mente appunto di fare la bandiera, in questa bandiera nasce appunto la natività. Ogni re maggio ha un suo giubileo, visto che sono 150 anni, ogni re maggio rappresenta 50 anni dell'Unità. E sulla base vuoto rappresentare appunto l'Italia, però l'asta l'ho fatto uscire appunto dalla prima capitale d'Italia, che era Torino, e quindi da Torino esce l'asta che mantiene appunto l'Unità d'Italia. Tra i singolari presepe realizzati con materiali di riciclo e naturali, spicca la rappresentazione della natività che ha ricordato la tragedia di San Giuliano di Puglia, un evento che ha cambiato la storia della stessa regione. Questo presepe l'ho realizzato nel 2002, quando ci fu quel terribile terremoto che colpì il Molise, in particolare San Giuliano di Puglia, dove ho voluto rappresentare appunto il Molise, rialzato rispetto alle altre regioni, e a far nascere Gesù proprio a San Giuliano di Puglia, e attorno a tutti i 27 angeli, con la maestra e le due anziane che morirono anche quel giorno. Poi i tre centri principali, Campobasso, Termoli e Isernia con i loro monumenti, e sull'orologio appunto di Termoli c'era le 11.32, l'ora in cui ci fu la rossa scossa. Accanto a un ricordo così terribile è anche quello per Franco Praetano, presidente dell'Associazione Molisana dei Presepi, da poco scomparso, al quale Teberino ha dedicato la sua personale 2012. Una mostra che va vissuta e non raccontata, per gli spunti di riflessione e la forza dell'attualizzazione dei contenuti. Sarà possibile godere dell'esposizione fino all'Epifania. Il Museo dei Misteri rimarrà infatti aperto fino al 6 gennaio, dalle 16 alle 19.30 nei giorni feriali, mentre dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30 nei festivi. Lutto nel mondo dell'arte molisana è morto il pittore e poeta Pietro Mastrangelo. Avrebbe compiuto 90 anni il prossimo gennaio l'artista originario di Santa Croce di Magliano. In gioventù visse a Roma dove conobbe Guttuso che lo incoraggiò a dedicarsi all'arte. Nel 2007 gli fu conferita l'onoreficenza di Cavaliere al merito della Repubblica. Anche quest'anno la Caritas di Termoli ospita numerosi senza tetto che non sanno dove andare a mangiare. Sono 25 le persone che trascorrono le festività con gli operatori della diocesi per ricevere un pasto caldo. Arrivano da ogni parte e quest'anno è aumentato anche il numero dei nuovi poveri italiani. Vediamo. E' stato un Natale degno di tal nome anche quello trascorso dai senza tetto che a Termoli quotidianamente si recano alla Caritas diocesana per poter mangiare. Un Natale in cui anche per queste persone che non hanno dimora né famiglia è trascorso all'insegna della tranquillità grazie agli operatori che li hanno accolti. In questi giorni sono diverse le persone che si rivolgono alla Caritas per avere un pasto caldo, un'unica tavolata con i colori del Natale. In questi giorni si pranza tutti insieme in segno di fratellanza ma anche per condividere un periodo particolare dell'anno come in una grande famiglia. Sto riconoscendo in ciascuno un fratello. Non è far finta che oggi dobbiamo essere buoni. Cerchiamo di esserlo ogni giorno dell'anno ma oggi particolarmente vogliamo dare un'attenzione perché ciascuno è il nostro fratello e vogliamo farglielo sentire col cuore al di là di quello che gli diamo da mangiare e quello che gli offriamo. Soprattutto l'amicizia, la fraternità che Gesù è venuto a inaugurare in occasione del Natale. Siamo contenti quando sono poche perché vuol dire che hanno trovato dove lavorare e dove mangiare ma quando sono molti apriamo le nostre porte, aumentiamo i tavoli ma nessuno resta senza mangiare. Tanti sono italiani, sono anche del circondario, di termoli stesso e tanti sono anche stranieri dalla Romania, dalla Polonia, dalla Tunisia. Dove c'è qualcuno che ha bisogno e viene in Italia trova una porta aperta qui alla Cittadella della Carità. Per tutti un menù di tutto rispetto. Allora il menù è composito come ogni menù di Natale prevede. C'è dell'antipasto misto, della lasagna, dell'arrosso con patata al forno, abbiamo i dolci, la frutta e anche il caffè. Non manca niente. Ma quello che non manca mai è l'umanità, chi accoglie altra umanità e questo è il miglior regalo di Natale. Gli ospiti della Carità si ringraziano e sono consapevoli che a Termoli c'è una struttura sempre pronta ad accoglierli nei momenti più difficili. Sì, si mangia tutti insieme e con tutti quanti. Siamo come fratelli. Per me è una gioia stare a Termoli con tutte le persone che mi vogliono bere, con tutti quanti. C'è una gioia immensa di stare con tutti gli amici di Termoli e stare tutti insieme. Un cuore per Termoli è questo lo slogan del progetto promosso dall'Associazione Il Mosaico che ha deciso di acquistare e donare tre defibrillatori alla Polisportiva San Pietro e Paolo, alla Polisportiva Difesa Grande e la SD Termoli Calcio 1920. Un gesto, ha commentato il presidente dell'Associazione Enrico Miele, che vuole contribuire a una promozione dello sport che sia sano, tutelando tutti coloro che nello specifico giocano a calcio. Sono tanti e originali presepi esposti all'interno della suggestiva cornice del Castello Svevo di Termoli. La mostra, giunta alla quattordicesima edizione, è stata organizzata dall'Associazione Amici del Borgo Vecchio e resterà aperta fino al 6 gennaio, giorno in cui sarà premiato il vincitore. Vediamo. L'aria del Natale, la magia del Castello Svevo di Termoli e le natività rappresentate in tutte le forme. Si rinnova a Termoli l'appuntamento con i presepi artistici, una delle poche manifestazioni che in questo periodo si tiene nella città adriatica. Un appuntamento che nel corso degli anni ha visto come protagonista l'Associazione Amici del Borgo Vecchio, che anche quest'anno hanno rinnovato l'incontro con le natività giunte da più parti d'Italia. Dopo tanti anni ancora riusciamo a fare questa bellissima manifestazione che in questi anni ha movimentato per ogni anno oltre 11-12 mila presenze. Per Termoli è una cosa bella, grande in questo periodo, dove comunque si affacciano turisti, gente che passa e addirittura gente che viene organizzando Pullman per venire a vedere i presepi perché siamo in un circuito ormai nazionale di mostri di presepi. La mostra dei presepi al Castello Svevo rappresenta anche una competizione in migliore. Sarà premiato il 6 gennaio prossimo. Giornalmente fino ad allora si potranno visitare tutte le natività. Saranno gli stessi visitatori con il loro giudizio e il loro voto a scegliere. Il presepe è più bello. Praticamente sono circa 45 tra quelli che concorrono alla premiazione e altri che sono stati già visti qua ma che sono fuori concorso ma che sono presepi meritevoli dal punto di vista tecnico, artistico e quindi abbiamo voluto in qualche modo riprendere questa cosa. Penso che la mostra sia da venire a vedere anche perché è un invito a tutti a venire a votare in quanto il pubblico è giuria popolare che assegna un presepe in argento. Per cui vi aspettiamo. Adesso vediamo insieme le previsioni per la giornata di domani. Il meteo è offerto da Scegli Italian Gas e troverai il massimo risparmio. Chiama il numero d'ervi 800 76 89 89 e capirai come risparmiare. Italian Gas. Energia per passione. Previsioni del tempo per giovedì 27 dicembre. Correnti fredde determinano una giornata sostanzialmente variabile con nuvi sparse di passaggio. Da segnalare qualche isolato rovescio su Lucania Tirrenica in serata. Temperature in generale calo. Venti fino a moderati dai quadranti occidentali. Mari generalmente mossi. Passiamo alle temperature. Campo basso minima 5, massima 10 gradi. Isernia minima 5, massima 13 gradi. Termoli minima 10, massima 13 gradi. Il meteo è stato offerto da Scegli Italian Gas e troverai il massimo risparmio. Chiama il numero d'ervi 800 76 89 89 e capirai come risparmiare. Italian Gas. Energia per passione. Il nostro telegiornale termina qui. Grazie per averci seguito e buon Santo Stefano da tutti noi. Grazie per averci seguito e buon Santo Stefano da tutti. Grazie per averci seguito e buon Santo Stefano da tutti. Grazie per averci seguito e buon Santo Stefano da tutti. Grazie per averci seguito e buon Santo Stefano da tutti. Grazie per averci seguito e buon Santo Stefano da tutti. Grazie per averci seguito e buon Santo Stefano da tutti. Grazie per averci seguito e buon Santo Stefano da tutti. Grazie per averci seguito e buon Santo Stefano da tutti. Grazie per averci seguito e buon Santo Stefano da tutti. Grazie per averci seguito e buon Santo Stefano da tutti. Grazie.